Christophe Kepiontek, Christophe Kepiontek, ragazzi miei siamo al 92esimo minuto, mancano due minuti di recupero ma attualmente il Milan se la sta portando a casa, parliamo di Coppa Italia e qualora dovessero passare affronterebbero la vincente tra Lazio e Inter, ipoteticamente potrebbe essere un derby ma potrebbe anche essere un Milan-Lazio. Ciao bella a tutti da me, come stavo dicendo nell'intro e io gongolo un pochino perché comunque ha esordito col Milan da titolare nel migliore dei modi, Kepiontek butta dentro una doppietta, anche se per domenica visto che ci giocamo contro mi mette un po' paura perché a queste condizioni ragazzi miei potrebbe fare qualcosa, speriamo di no. Per il resto, per il resto, come lo vedo sto Piontek? A me a livello psicologico mi sembra pronto, a livello fisico mi sembra prontissimo, oggi non stavano a giocare con gli ultimi della classe, oggi il Milan stava giocando con il Napoli. Napoli che in Serie A è secondo in classifica, Napoli che finora ha fatto vedere cose maschie, toschte, importanti, eppure sto Piontek mi sembra non aver paura veramente di nessuno, non sente il peso di quanto è stato pagato, non sente il peso della maglia. È un giocatore che gioca con la cattiveria, con la bava alla bocca, con gli occhi della tigre, tant'è che oggi è riuscito a superare un certo Koulibaly in occasione del secondo gol. Sul primo si è preso gioco, se non sbaglio, di Maximovic, ma comunque ho visto Koulibaly un po' in difficoltà su di lui, se non sbaglio l'ho assaltato in un'altra occasione per il Milan e Koulibaly si è fatto ammonire proprio perché non è riuscito ad anticiparlo. Quindi ragazzi non voglio bruciarlo perché ripeto ce l'ho al fantacalcio e mi serve che mi faccia qualche golletto toschto. Però bisogna comunque aspettare, l'esordio è stato bellissimo a mio parere e penso anche a parere di molti altri tifosi del Milan e non è facile ammette che insomma ha fatto una partita di quelli. Ma è finita qua ragazzi miei, quindi sarà Milan contro la vincente tra Lazio e Inter, ma mi sento di dire che nonostante il Napoli abbia comunque provato a gestire la partita, il Milan è stato intelligente dopo aver fatto i due gol a chiudersi nella propria metà campo ad aspettare il Napoli e all'occorrenza a ripartire. In questo caso Ancelotti è stato beffato dal suo passato, ma secondo me è una partita che il Milan si è meritato di portare a casa, soprattutto grazie a un fenomeno come Piontek che appunto ha fatto semplicemente la differenza. Insigne che oggi ha peccato un po' di imprecisione perché comunque il Napoli le occasioni ce le ha avute, ma vince chi la butta dentro. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi è giusto che alla fine abbia vinto il Milan e che cosa ne pensate della prestazione del Napoli. Detto questo, Christophe Piontek, porca puttana ragazzi miei, vabbè ciao.